Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio EMG Acqua sulle intenzioni di voto politiche nazionali o europee, che è uguale in questo momento. Totale del centrodestra 44,5%, Fratelli d'Italia 27,5%, Lega 8,7%, Forza Italia 8,3%. Totale centrosinistra 24,2%, con il Partito Democratico al 20,5%, Sinistra Italiana Più Verdi 3,7%. Movimento 5 Stelle 16%, Stati Uniti d'Europa 5%, Azione Siamo Europei 3,4%, Lista Per la Pace Santoro 1,9%, Libertà di Cateno De Luca 1,8%, Altra Lista 3,2%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.